Tutti preoccupati là? Agrigento? Tutti. Aspettano le cene di Pierandello. Piano! Piano! Piano, piano! Slow down! Oh, slow, slow, yes, ok, ok! Slow down! Ok! Ci possono chiedere di beledere un vaso greco? Con il funerale che attraversa Agrigento? Agrigento a levarsi il cappello davanti a un vaso? Ce lo possono chiedere? Tagliato, sta ruando. Hai visto? È morto un bambino. Tagliato, vi è la fine che vi mette. Ancora! D'accordo? E che rimane al bisogno. Ma domine al bisogno! Tornino! Ti va! Grazie a tutti.